Benvenuti su Ultimissima. I team investigativi sono prontamente entrati in azione per tentare di chiarire un caso che presenta ancora numerosi enigmi. Un cruciale aggiornamento sul cellulare di Giovanna Pedretti, la ristoratrice che ha perso la vita presumibilmente per suicidio, è stato reso noto pochi istanti fa. Tutti i dettagli saranno esposti nel corso del video. Prima di cominciare ti invito ad iscriverti al canale e attivare la campanella per non perderti i nostri prossimi video. Un gesto semplice ma per noi molto importante. Grazie. Secondo le ultime indiscrezioni che circolano riguardo al caso della ristoratrice Giovanna Pedretti, sembra che almeno per il momento la sua morte sia stata un gesto volontario. Inizialmente, la ministra per la disabilità, Alessandra Locatelli, aveva elogiato il gesto della Pedretti, ma in poche ore qualcosa è cambiato. C'è chi ha iniziato a mettere in discussione l'autenticità dell'episodio, suggerendo che potrebbe trattarsi di una sorta di artificio per attirare l'attenzione pubblica. In seguito, la donna avrebbe subito una serie di insulti e offese sui social media, una pressione mediatica che l'avrebbe colpita in modo eccessivo, spingendola a compiere il gesto estremo. Affrontando i giornalisti del Tg3 che erano venuti alla sua pizzeria in cerca di chiarimenti, la ristoratrice ha fatto giuramenti sinceri e appassionati. Guardatemi negli occhi. Credetemi, dico la verità. Chiamata anche dai carabinieri per essere interrogata in caserma riguardo a un episodio che poteva configurare il reato di istigazione all'odio, ha ribadito la sua versione. Ma, inaspettatamente, il dramma si consuma poche ore dopo. Giovanna Pedretti si allontana all'alba di domenica e, dopo un'ardua ricerca, viene rinvenuta senza vita dai vigili del fuoco nel fiume Lambro. Anche la figlia 28enne della donna non ha dubbi. Sua madre è stata massacrata mediaticamente. Accanirsi è pericoloso. La compagnia dei carabinieri di Lodi ha sequestrato i dispositivi elettronici della donna con l'obiettivo di comprendere l'effettivo impatto dei messaggi offensivi ricevuti sui social. Che ne pensi? Se vuoi esprimere il tuo parere, lascia un like e faccelo sapere in un commento. Iscriviti al canale e attiva la campanella per non perderti i nuovi video.